Aldeno Ozzolo Maddalene Un avvio di campionato che rispecchia le attese, consapevoli delle difficoltà e delle proprie carenze. In questo incontro sarà fondamentale non uscire sconfitti, la salvezza da ottenere il prima possibile. Besenello Leno La bella vittoria ha rilanciato gli entusiasmi della formazione di casa, che sta giocando un buon calcio in queste settimane. Gli ospiti riusciranno a essere ancora trascinati dal proprio bomber a vincere in trasferta? Cristore Volano Sicuramente l'imbarcata subita in trasferta non aiuta a preparare al meglio l'incontro con la capolista. Il tifo giallorosso sarà un'arma valida per sfidare i biancorossi, motivati a riscattare il deludente pareggio? Castel San Giorgio Spormaggiore Si incontrano due formazioni che erano ben più accreditate all'inizio dell'anno, ma che hanno avuto un calendario piuttosto impegnativo. Chi riuscirà a riscattarsi in questo match incerto? Marco Trambileno L'avvio di stagione è stato pessimo, con i locali che si aspettavano di essere parecchie posizioni più in alto, e i neroverdi senza uno zero in classifica molto pesante. In questo incontro tutti vorranno mostrare di che pasta sono fatti. Mattarello I rossoneri hanno vinto nell'ultimo incontro in rimonta, mentre gli ospiti hanno ottenuto un buon pareggio. I locali manterranno l'imbattibilità interna, oppure gli ospiti otterranno la prima vittoria in trasferta? Sacco San Giorgio Azzurra Le squadre hanno raccolto ciò che hanno seminato, portando spettacole gol ovunque abbiano giocato. Soltanto una delle due big può vincere, ma il fattore campo potrebbe essere un dettaglio importante. Grazie a tutti! Grazie.